Un furgone con targa inglese guidato da un cittadino rumeno durante il lockdown. E' partita da qui un'indagine della squadra mobile di Belluno che ha portato all'identificazione di una banda di ladri attiva non solo in Italia ma anche in altri paesi europei. Sono cinque di cui tre arrestati all'estero grazie alla rete dell'Interpol, una ai domiciliari a Belluno e uno proprio il primo a essere identificato ancora all'attitante. 16 marzo la polizia ferma alle 4 e 30 del mattino il furgone con targa inglese. Alla guida c'è il 26enne Cosmin Georg Secret. Nel vano un carico di biciclette che si scoprirà a breve sono state rubate in un negozio di Romano Dezzelino. Il valore è di 87 mila euro. L'uomo sottoposto a fermo sparirà successivamente. I poliziotti però analizzano il contenuto del suo telefono, risalgono i contatti, osservano i tabulati e trovano anche qualche foto di alcuni sopralluoghi. Ricostruiscono i movimenti attraverso il GPS utilizzato per il navigatore. Isolano un gruppo di quattro utenze, due italiane e due rumene. Si scopre una base logistica in via Fratelli Rosselli a breve distanza dal punto in cui era stato fermato il furgone con targa inglese. Incrociando alcuni dati si collegano i sospettati non solo al furto a Romano Dezzelino ma anche al colpo da 53 mila euro in biciclette in un negozio di cesio maggiore, 5 marzo, alla sparizione di un furgone sempre nello stesso paese, 6 marzo e al furto di materiale per il giardinaggio in un negozio di sedico, 8 marzo. In via Rosselli abitano il 26enne Ionuz Aurelian Lascut, ricercato anche per furti in Austria e Belgio e una operaia rumena di 37 anni che all'inizio dell'estate ha aperto ai puliziotti il garage con parte dell'area furtiva. Completano la banda, Secret ancora all'attitante, il 27enne Daniel Ispasoio responsabile dei furti in Austria e Belgio insieme alla Scut e il 33enne Alin Daniel Stoica. La mattina del fermo di Secret c'è stata la diaspora all'estero. Nelle ultime settimane i due membri della banda, che avevano colpito anche in Austria, sono stati arrestati dalla polizia rumena nel paese natale vicino al confine serbo. Stoica, già arrestato e rilasciato in Svezia per un furto di Quad, è stato nuovamente arrestato in Norvegia. La donna di via Rosselli è domiciliari, Secret è ricercato dall'Interpol. Tutti devono rispondere di furto aggravato in concorso.